Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi ragazzi siamo alla seconda settimana dell'allenamento e alleniamo i dorsali ragazzi e le spalle. Primo esercizio ovviamente l'Hat Machine che vedete qui. L'Hat Machine primo esercizio. Faremo sempre 4 serie per 20, 15, 10 e 5 ripetizioni. Adesso andiamo a pesarci e poi cominciamo. Grazie a tutti. Ragazzi nuovo peso 57 kg, punto 45, grasso a corporeo 11,5. Ragazzi pronti per la prima serie. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 5 ripetizioni Grazie a tutti 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 Grazie a tutti